A nemmeno un anno dall'insediamento Don Mauro Darin Fioretto ha lasciato all'improvviso la guida dell'unità pastorale di Vigonza. La notizia è giunta in attesa nelle messe domenicali e non è stata data ai fedeli dal diretto interessato ma dal vicario generale della diocesi Don Giuliano Zatti. Don Darin Fioretto, padovano, 46 anni, dall'ottobre del 2017 era responsabile di quattro parrocchie Vigonza, Pionca, Peraga e Codiverno e al suo primo incarico da parroco dopo 11 anni passati in missione in Ecuador e altri anni come assistente dell'azione cattolica diocesana. Ora ha chiesto con urgenza di avere un periodo di riposo, a detta del vicario generale, per questioni di stress. Sgomenti i parrocchiani vigontini che in passato hanno già dovuto assistere al ritiro improvviso di due loro sacerdoti per varie cause, dalle minacce ricevute da persone bisognose che avevano aiutato, alle incomprensioni con le precedenti amministrazioni comunali per la realizzazione di opere pubbliche.